Buonasera, un caloroso ben ritrovati da tutta la redazione a questa puntata numero 203 di Nuovi Lavori in Corso, il magazine di informazione sindacale curato dalla Cigiene di Parma che vi propone notizie sul mondo del lavoro e dei contratti, i diritti, la previdenza, lo stato sociale, l'immigrazione e la tutela del consumatore. Apriamo oggi questa puntata occupandoci della situazione politico-economica e in particolare dei provvedimenti all'esame del governo per rilanciare la crescita del paese, non ultima naturalmente la riforma del mercato del lavoro, su cui è come ovvio focalizzata l'attenzione del sindacato e a questo proposito sentiamo il commento di Patrizia Maestri, segretaria generale della Cigiene di Parma. La Cigiene di Parma è un'attività con le difficoltà relative alle dichiarazioni del stesso Ministro Fornero, che sono state poi dopo anche un pochino modificate, però insomma quando si parla di ammortizzatori sociali non si può pensare in un momento di grande difficoltà ancora come questo di andare appunto a ridurre invece di estendere e quindi pensare che la cassa di integrazione straordinaria, che è lo strumento che tiene legato comunque il lavoratore all'azienda possa essere ridotto, noi riteniamo come sindacato, come CGL che sia profondamente sbagliato. Così come non ci piace anche l'idea del contratto unico di inserimento in cui ci sono tutele e diritti che sarebbero applicati in maniera graduale. Noi pensiamo che il contratto di apprendistato possa essere effettivamente quella forma di assunzione che per i giovani possa avere comunque un valore anche fortemente formativo. Certamente il confronto appunto proseguirà, i temi per il momento come sono stati affrontati non sono comunque rispondenti ai problemi che noi abbiamo sollevato, c'è un problema ancora di disoccupazione giovanile molto forte in questo Paese, quindi dobbiamo trovare quegli strumenti che possano affrontare questo tema come quello della crescita. Aggiungo anche che il decreto liberalizzazione già comunque uscito dovrebbe forse nel tempo comunque aiutare anche le famiglie per quanto riguarda redditi, costi, prezzi e tariffe, ma comunque riteniamo che sia anche quello insufficiente, incompleto. Penso anche che le stesse corporazioni che stanno facendo proteste in maniera anche eccessivamente violenta e insensata dovrebbero porsi il problema della crescita del Paese complessivamente e non pensare solamente alle loro stesse corporazioni. E restiamo in tema di attualità politico-economica per affrontare un tema particolarmente sensibile, quello degli effetti del decreto liberalizzazioni sul settore del commercio. Sentiamo a questo proposito Francesca Balestreri, segretaria generale della Filcams, Cigiele di Parma. La totale liberalizzazione del commercio senza regole prevista dal decreto del governo danneggia e peggiora le condizioni di vita delle lavoratrici e lavoratori del settore, rompendo equilibri di vita familiari e rendendo sempre più incompatibili i tempi di lavoro e di vita. La norma del governo tra l'altro esautora completamente le regioni delle loro competenze in materia, annulla qualunque differenza tra i centri storici e le periferie e rende impraticabili gli accordi territoriali sui calendari di apertura. Negozi aperti con orari prolungati nelle domeniche o in tutte le festività non significa crescita. I dati degli ultimi mesi continuano ad evidenziare un calo drammatico dei consumi e sappiamo bene che il problema è il reddito e la capacità di spesa dei cittadini e non certo gli orari di apertura. Maggiori aperture per le imprese significa aumento dei costi di gestione. Da tempo facciamo i conti con gli effetti negativi di questo fenomeno, meno diritti e meno salario per i lavoratori, continua chiusura delle piccole imprese che rischia di creare il deserto nei centri storici delle nostre città, a vantaggio della grande distribuzione situata nelle periferie. Da una comparazione degli orari d'apertura in vari paesi europei tra l'altro risulta evidente come in Italia gli orari siano già molto estesi. In nessun paese europeo, forse fatta eccezione per Londra, i negozi chiudono sempre alle 21 o alle 22, soprattutto nei fini settimana. Oggi più che mai, nel momento in cui la crisi coinvolge la nostra economia, è necessario ripensare a un modello di sviluppo e a un modello di consumo diverso, altrimenti si rischia di rendere i cittadini semplici consumatori, mentre serve invece rispettare di più il valore del lavoro. Passiamo ora al comparto creditizio. Al termine di una difficile trattativa, dopo oltre un anno di intensa mobilitazione e quattro mesi di scontro durissimo, è stato finalmente sottoscritto lo scorso 14 gennaio un accordo sul progetto di riorganizzazione per l'integrazione di Banca Monteparma nel gruppo Intesa San Paolo. Accordo firmato da tutte le rappresentanze sindacali e aziendali di Banca Monteparma e che ci illustra Stefano Fornari della FISA Cigeli di Parma. Dopo tanti mesi di scontro e mobilitazione siamo riusciti a raggiungere questo accordo con Banca Monteparma e con il gruppo Intesa San Paolo. È un accordo che certamente prevede i sacrifici per i lavoratori, ma che in ogni caso respinge il progetto di Intesa San Paolo che aveva richiesto 141 licenziamenti. Non ci saranno licenziamenti, ci saranno le conferme dei giovani apprendisti, quindi una tutela anche della prospettiva del futuro dei lavoratori e della banca stessa e i sacrifici che ci sono, anche perché stiamo parlando di un accordo di emergenza, comportano dei prezzi che i lavoratori devono pagare, ma che in ogni caso sono tutti misurati su strumenti di natura contrattuale e aggiuntiva, si tratta di sospensione di trattamenti e non di cancellazione di trattamenti e si è utilizzato un criterio di completa solidarietà utilizzando al massimo dei principi di equità che certamente non risolvono il problema del prezzo, dell'intervento sul prezzo, ma che riescono in ogni modo a far pagare di più a chi ha di più salvaguardando le fasce più deboli dei lavoratori. Adesso abbiamo di fronte tutto il progetto organizzativo da affrontare, quindi la gestione di questo accordo che non sarà semplice e certamente rispetto a quanto accaduto non vogliamo lasciar cadere la questione dell'azione di responsabilità, la rilanciamo e faremo di tutto per ripristinare un principio di giustizia rispetto a quello che è accaduto, i lavoratori stanno facendo la loro parte di più perché non erano tenuti a falla rispetto a quello che è successo, adesso bisogna individuare le responsabilità e fare pagare il prezzo anche a chi ha comportato il danno su Banca Monte che i lavoratori si sono impegnati in parte a sopportare. Certamente c'è bisogno anche dell'intervento delle istituzioni che in questo arco di tempo non ci hanno sostenuto come avrebbero dovuto, ma che adesso devono intervenire per fare in modo che Banca Monte sia per il prossimo periodo un'istituzione importante cittadina che possa riprendere il suo ruolo per il futuro nell'interesse della cittadinanza e dei lavoratori. Anche per l'FLC, la Federazione Lavoratori della Conoscenza, che riunisce gli addetti della scuola, università, ricerca e alta formazione artistica e musicale, dal 5 al 7 marzo sarà il momento di un importante appuntamento, quello dei rinnovi delle RSU. Anche a Parma la categoria si sta preparando a questo fondamentale momento di democrazia sindacale, come ci racconta Simone Saccani, segretario generale dell'FLC CGL di Parma. È un fondamentale momento di democrazia che per il lavoratore della conoscenza manca da 5 anni. Le ultime elezioni risalgono al 2006. Sono importanti queste elezioni di RSU dove noi ci stiamo lavorando per due motivi principalmente. Per un motivo perché a livello nazionale, come voi sapete, la rappresentatività di un sindacato nel pubblico impiego si misura proprio durante le elezioni di RSU. Io vi ricordo che negli ultimi anni siamo stati soggetti di diversi accordi separati, ossia senza la firma della CGL e quegli accordi valgono in virtù del peso che hanno i vari sindacati. L'ultimo accordo, vi ricordo, è quello sancito semplicemente pochi mesi fa, nel quale si modifica il contratto nazionale che dovrebbe essere bloccato per legge fino al 2015 e si cambia la tabella retributiva. Quindi per tutti i neoassunti in ruolo da questo settembre fino all'infinito, questi lavoratori non perciperanno lo stesso stipendio per i prossimi nove anni. Altrettanto importanti sono le RSU invece per quanto riguarda le contrattazioni di istituto. Quest'anno, per la prima volta da quando esistono le RSU, l'FLC non ha sottoscritto dei contratti di istituto, per il semplice motivo che alcuni dirigenti hanno interpretato la norma di Brunetta in senso restrittivo per i lavoratori, ossia togliendo dalla contrattazione tutto ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro. È un attacco per la prima volta ai diritti e non solo alla parte retributiva per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello, che noi vorremmo continuare a difendere con sempre maggior forza. Per questo motivo ci stiamo impegnando e chiediamo a tutti i lavoratori di votare il 5, 6, 7 di marzo per la FLC CGL. E siamo all'approfondimento dell'attualità sindacale. Sono stati presentati lo scorso 26 gennaio i dati sul tesseramento 2011 della CGL di Parma, un appuntamento tradizionale in cui il sindacato ha l'occasione di tracciare un bilancio dell'attività dell'anno appena trascorso. Raffaele Tagliani, segretario organizzativo della CGL di Parma, ci aiuta a ricostruire un quadro particolarmente articolato. Dunque partiamo dai dati. Cosa emerge dal tesseramento 2011 della CGL di Parma? Intanto i numeri. Il 2011 ha rappresentato da un punto di vista dell'iscrizione alla CGL di Parma un dato positivo, un dato quindi potremmo dire quasi in controtendenza con le difficoltà occupazionali in genere nel nostro territorio. Chiudiamo con 55 iscritti in più rispetto al 2010, che vuol dire affermarci abbondantemente sopra 74 mila, per la precisione sono 74 mila 442. questa massa sicuramente è divisa in tanti settori da analizzare, ormai è garantito da anni una presenza stabile delle donne e uomini suddivise equamente come i nostri tesserati, abbiamo una presenza sempre maggiore, crescente del lavoro immigrato e registriamo anche però le difficoltà per esempio nel settore degli artigiani, nel settore degli artigiani che vuol dire piccole imprese, vuol dire iscrizioni in una fascia di lavoro in difficoltà. I nuovi iscritti sono costanti, quindi una organizzazione in salute. Aggiungiamo che a questi dati, forse il più importante proprio vista come prospettiva, è l'aumento degli iscritti dei tesserati nel lavoro attivo, il leggero calo è quello ma il lavoro attivo è in crescita già da alcuni anni, anche nel 2011, a confermare insomma il consenso che la nostra attività politica ha nei luoghi di lavoro. Quale analisi invece scaturisce dal tesseramento delle diverse categorie? L'analisi complessiva, come diciamo sempre noi, il nostro mondo di iscritti, di lavoratori, cittadini che si avvicinano alla nostra organizzazione è uno spaccato importante, un osservatorio importante rispetto al mondo più complessivo del mondo del lavoro. Noi abbiamo alcune difficoltà in alcuni settori, soprattutto in quello dell'edilizia, che riscontriamo una difficoltà oggettiva del settore nel suo insieme. Abbiamo invece una buona tenuta nel mondo invece più industriale, più tradizionale. Funziona bene il settore metallo-meccanico nella nostra provincia, come quello agroalimentare, ma anche come quello del chimico e tessile e abbiamo un buon riscontro anche nel nostro tesseramento. Anche sui servizi abbiamo delle buone tenute, funzione pubblica, quindi dei lavoratori del pubblico impiego, è confermato un certo numero di iscritti, così come è in crescita anche quello del commercio, forse il dato più importante. Ottimo risultato anche quello della scuola che conferma l'attività svolta in quel settore è particolarmente colpito nel passato dalle leggi. Un dato per tutti però è quello del NID, della nuova nostra categoria sull'identità del lavoro, sugli atipici, che registra quel mondo del lavoro non cosiddetto tradizionale, dei giovani, delle atipicità, delle collaborazioni partite IVA. È un grande aumento, denota proprio, fotografa la situazione, l'andamento, l'evoluzione del mercato del lavoro anche nella nostra provincia. Come si intrecciano questi dati con un bilancio più complessivo dell'attività della CGL di Parma e con le prospettive per i prossimi mesi? Possiamo dire che sicuramente il dato del tesseramento, il nostro dato delle iscrizioni, è, come dicevo, diverso rispetto invece alla fotografia del mercato del lavoro, dell'andamento economico e occupazionale. Noi abbiamo avuto un 2011 difficile, tante crisi nel luogo di lavoro, tante crisi aziendali, settori colpiti fortemente, cassa integrazione tantissime ore utilizzate. L'impegno nostro è stato soprattutto nel fronteggiare la situazione drammatica che attraversava molti settori e molte aziende. Non sarà tanto diverso il 2012, anzi pensiamo che il 2012 sarà un anno ancora più grave, non tanto perché vengono a mancare, o rischiamo che vengono a mancare finanziamenti a sostegno del reddito, ma anche perché la ripresa a livello italiano e a livello del nostro paese non ci sarà e quindi anche la nostra provincia risentiremo di questo. Per cui la CGL, il nostro sindacato, dovrà fronteggiare ulteriormente questa fase difficile. Torna ora lo spazio dedicato all'informazione in pillole, dove oggi ci occupiamo del riconoscimento dell'infortunio in itinere per quei lavoratori che nel tragitto casa-lavoro utilizzano come mezzo di trasporto privato la bicicletta. Sentiamo cosa ci dice in proposito Bruno Bertorelli, responsabile dell'ufficio danno biologico del patronato Inca della CGL di Parma. Il patronato Inca ha sempre difeso i lavoratori che utilizzavano la bicicletta per recarsi a lavorare. L'INAIL li ha sempre disconosciuti perché pretendeva che il lavoratore che dovesse recarsi a lavorare in orari compatibili con i mezzi pubblici dovesse utilizzare il mezzo pubblico. Ovviamente dopo una serie di ricorsi la direzione centrale ha dovuto rendersi conto che mentre tutte le amministrazioni prestano attenzione alla mobilità sostenibile, quindi piste ciclabili e cose di questo genere, ha dovuto cambiare la sua posizione. Da qualche settimana l'INAIL deve riconoscere e riconosce il infortunio di tinere ovviamente se è avvenuto sulle piste ciclabili. Ovviamente l'INAIL manda un questionario da compilare a casa. Bisogna fare attenzione alla compilazione di questo questionario. Il patronato Inca da questo punto di vista offre a tutte le persone che incappano in un infortunio sulle piste ciclabili, li invita a passare dagli uffici attraverso un appuntamento che lo possono fissare attraverso il centralino 0521 2979 e quindi con l'appuntamento la compilazione gratuita di questo questionario in modo che l'INAIL sia messa nelle condizioni di riconoscere l'infortunio. Siamo al termine, vi ricordo che potrete rivederci oltre che sul nostro sito www.cglparma.it in replica su questa stessa emittente lunedì 3 febbraio alle 19.15. Nuovi lavori in corso, vi aspetta invece con una nuova puntata il prossimo 13 febbraio alle 19.15 su Teleeducato. Grazie per essere stati con noi e a presto! Grazie per la visione! Grazie per la visione!